Con l'arrivo della primavera ecco presentarsi le allergie stagionali con tutta la serie dei sintomi numerosi e fastidiosissimi. Forte prurito al naso e agli occhi, starnuti continui e ripetuti, rinorrea acquosa, questo continuo gocciolare del naso, congestione nasale, in alcuni casi anche difficoltà respiratoria e a livello oculare oltre al prurito anche una forte lacrimazione, rossore e congestione dell'occhio. Ne sono responsabili i pollini delle piante ed il periodo tra aprile, maggio e giugno diventa molto difficile per tante persone che soffrono di allergia. In realtà abbiamo delle forme di allergia che durano tutto l'anno in quanto sono dovute anche ad altri allergeni, le muffe, le polveri, i peli degli animali e in più i pollini di tutte quelle piante che continuano una fioritura diciamo in maniera perenne. In chi è predisposto gli allergeni determinano una reazione da parte degli anticorpi con un rilascio delle cellule chiamate mastocellule di una sostanza che si chiama estamina a cui si devono tutta questa serie di sintomi fastidiosi. Possiamo individuare l'allergene che crea la forma di allergia attraverso dei test cutanei, il Prick test. Si tratta di un test in cui le sostanze vengono applicate sulla cute e si va a vedere se esse comportano un rossore o un rigonfiamento. In altri casi si usano anche dei test sanguigni, sono il Rast test o il Prist test che vanno invece a controllare quelle che sono le immunoglobuline prodotte da quel particolare allergene. Possiamo adottare una serie di precauzioni per cercare di alleggerire almeno i sintomi della nostra fastidiosa allergia. In primo luogo controllare il calendario dei pollini, sapere cioè quando è il periodo di maggiore produzione di pollini di quella allergene a cui noi siamo appunto sensibilizzati. Nei periodi di picco stagionale evitare di soggiornare molto all'aperto soprattutto durante le giornate calde. Inoltre se siamo in macchina evitare il finestrino aperto ma utilizzare sistemi di ariazione che attualmente sono anche dotati di controllo antipolline, di filtro antipolline. Attenzione ai temporali e alle piogge battenti. In effetti sia in primavera che in estate possono capitare delle giornate piovose ma con una pioggia molto forte come appunto quella dei temporali. Le gocce che cadono a terra con grande violenza vanno a frantumare i pollini i quali praticamente si miscelano con il pulviscolo acquoso e quindi c'è una sorta di maggiore volatilità delle forme di questi allergeni che determina un aggravamento della sintomatologia per il soggetto allergico. Ricordiamo che per chi è allergico alle muffe deve evitare ovviamente ristagne di acqua e soprattutto controllare per esempio la tenda della doccia che non abbia muffe quindi andarla a rimuovere in maniera costante. Inoltre per quanto riguarda invece l'allergia alla polvere evitare la presenza di tappeti, peluche, moquette e lavare in maniera regolare le lenzuola, le fodere e i tendaggi. Nel caso delle manifestazioni allergiche ricordiamoci che nell'alimentazione dobbiamo andare ad evitare degli alimenti che sono di per sé stessi già allergizzanti come le fragole, i crostacei, i frutti di mare, gli stessi latticini perché vanno ad amplificare di molto la risposta e la sintomatologia dell'allergico. Possiamo fare spesso durante la giornata dei lavaggi nasali per mantenere morbide le mucose che sono congestionate e soprattutto per andare a pulire le fosse nasali. Nel caso delle allergie spesso sono interessati gli occhi e la zona perioculare. La zona perioculare che risulta molto irritata con questa sensazione di pizzicore e di irritabilità molto molto forte. Possiamo andare a lenire questa sensazione con dei prodotti specifici lenitivi. Per il trattamento delle forme allergiche la terapia si basa sull'uso di prodotti cosiddetti sintomatici cioè che vanno ad alleggerire i sintomi ed in particolar modo gli antistaminici. Sono farmaci che vanno ad agire bloccando la produzione di stamina e quindi tutta la serie delle problematiche che essa scatena. Sono presenti sul mercato in forma di colliri, di compresse o di spray nasali. In alcuni casi i medici soprattutto ci seguono nel nostro trattamento delle forme allergiche possono ritenere opportuno l'uso di cortisonici in forma di spray nasali laddove l'infiammazione e la congestione è molto più forte. Diciamo che l'uso dello spray nasale elimina quelli che sono gli effetti collaterali del cortisone in generale. Importante sarebbe prevenire le forme allergiche quindi esiste la cosiddetta immunoterapia e attraverso i test di cui abbiamo indicato prima possiamo avere anche la possibilità di far preparare dei vaccini ad hoc per la nostra allergia che vanno a rendere più tollerante il nostro organismo all'attacco degli allergeni. Possiamo abbinare a questi farmaci anche dei prodotti di tipo naturale per esempio il ribessenigrum in macerato glicerico è un ottimo preparato che ci permette nella sua situazione antinfiammatoria cortisolaic di alleggerire la sintomatologia delle forme allergiche 50 gocce tutte le mattine durante il periodo della forma allergica. Inoltre molto importanti per il loro aiuto a livello del sistema immunitario proprio nella forza che il sistema può mettere contro le forme allergiche anche degli oligolementi il manganese il rame e lo zinco di solito nella formulazione di fiale che vengono prese una volta a settimana.